Musica Nell'aula magna dell'istituto tecnico-tecnologico Bruno Chimirri di Catanzaro, il dirigente scolastico Roberto Caroleo e la direttrice della casa circondariale di Catanzaro, Ugo Caridi e Angela Paravati, hanno sottoscritto una convenzione tra i due soggetti istituzionali interessati. L'accordo in questione permetterà ad alcuni detenuti di svolgere attività di recupero e di valorizzazione degli ampi spazi esterni di pertinenza della scuola. La convenzione prevede inoltre che sarà la casa circondariale a selezionare i detenuti coinvolti anche sulla base delle loro specifiche abilità in rapporto ad una determinata attività, mentre la scuola provvederà ad organizzare la tempistica degli interventi e a supportare dal punto di vista logistico ed organizzativo i soggetti coinvolti. Un percorso concreto di inclusione vera, detto al microfono di RTC il dirigente scolastico Roberto Caroleo. A partire a settembre è chiaramente Covid permettente. Sì, comunque nonostante il Covid non abbiamo lavorato sempre, comunque c'è una risposta da parte della nostra comunità intesa to cure, alunni, famiglie, docenti e dunque speriamo che a settembre si possa ripartire in presenza anche nella prospettiva delle novità che il nostro istituto sta ponendo in essere come la didattica all'aperto e questo grande progetto inclusione che vede al centro noi e gli altri, per cui apertura al territorio e alle realtà più fragili e difficili della nostra società. Peraltro vera inclusione e abbattimento delle barriere mentali in primis? Soprattutto culturali. Noi abbiamo un grosso lavoro ancora da portare avanti in tal senso, però sono convinto che con il lavoro che noi ogni giorno produciamo, con la mission della nostra scuola e quindi sugli interventi concreti che poniamo in essere e con una visione di prospettiva possiamo realizzare questi programmi. La pena non deve essere semplicemente punitiva ma deve includere un percorso consapevole di riabilitazione e rieducazione, affermato ai nostri microfoni. La direttrice della Casa Circondariale di Catanzaro, Angela Paravati. La pena non deve essere semplicemente punitiva ma anche deve essere un percorso di riabilitazione e di rieducazione. Si va effettivamente in questa direzione? Sì, assolutamente. La nostra Costituzione lo prevede ma sempre di più la nostra società credo che sia pronta per accettare che l'afflizione, la vendetta a fine a se stessa non servano a nulla. Noi siamo andati oltre con questa convenzione di oggi e andiamo oltre con le convenzioni già attive di pubblica utilità perché consentiamo al detenuto di ripagare la società per l'errore commesso e questo è un aspetto molto importante perché significa che il detenuto ha riconosciuto di aver sbagliato, che è pentito per averlo fatto e che è pronto anche a prestare la sua opera senza essere ripagato per rimediare in piccolo insomma al danno che ha fatto e poi soprattutto permette al detenuto per questo viene ben accettato questa proposta che gli viene dalla direzione perché il detenuto vuole il riscatto, il detenuto sente di essere ormai marchiato negativamente quindi vuole dimostrare che non è tutto male insomma e che bisogna dare una seconda possibilità. Il progetto partirà da settembre con la ripartenza della scuola in presenza detto ai nostri microfoni la docente referente all'inclusione delle Chimirri, Mirella Larussa. Sì, ripartirà a settembre insieme a tanti altri progetti che abbiamo programmato e che speriamo di poter portare a termine con la speranza appunto che questa emergenza sanitaria finalmente abbia fine e ci consenta di poter ripartire al meglio. La nostra scuola cerca veramente di fare dell'inclusione il suo fiore all'occhiello noi consideriamo la diversità, tra virgolette meglio ancora le differenze come delle risorse da sfruttare perché c'è sempre da imparare da ragazzi che hanno situazioni particolari è un arricchimento sicuramente per la scuola e noi ce ne facciamo un vanto ritengo che sia anche questo uno dei motivi per cui le iscrizioni dei ragazzi con bisogni educativi speciali siano in forte crescita. Grazie a tutti!